Ehi, iscriviti al canale per non perdere i prossimi contenuti. Restaurarvi, edificarvi contro questi semplici cantici. Secondo, il bisogno del vostro cuore. Caro Signore, come vedete anche voi, non abbiamo più bisogno di predicare le cose che devono avvenire. Per come hai una patata di ogni occhio umano, siamo del tempo degli ultimi giorni. In Luca 22, al verso 53, la parola di Dio ci parla di Gesù, chi si trova a Zedezemani, i suoi discepoli. E improvvisamente una folla alla guida di Giuda viene per poter restare. E Gesù dice a questa gente, io ho predicato ovunque, io ho predicato del tempio, delle strade, delle contrade, ma voi non mi avete mai preso. Ma adesso, dice il Signore, è il vostro tempo, è il tempo delle tenebre. Posso lo Spirito Santo toccare il tuo cuore, mentre stai ascoltando questo messaggio. C'è ancora più di tempo, amico, amica, c'è poco tempo, c'è ancora una possibilità che tu possa aprire il tuo cuore al Signore. Ma Dio sei, verso sei, ma quando tu preghi, entra nella tua cameretta e chiudi la porta e rivolge la tua preghiera al Padre. E nel segreto, vede, e nel segreto, il tuo problema al Signore. Grazie a tutti.